Siamo all'ospedale della Fratta nel reparto di chirurgia generale con il dottor Gaspare Andrea Gerardi che ha fatto recentemente degli interventi interessanti da un punto di vista flebologico, sappiamo che sono molti pazienti e uomini e donne affetti da patologie venose, di cosa si tratta dottore? Sono degli interventi mini-invasivi, in realtà si cerca di dare una completezza di trattamento ai nostri pazienti, da linea guida internazionale oramai è ben noto che dopo gli interventi laser e radiofrequenza siano da preferire alla chirurgia tradizionale interventi mini-invasivi quale uso di colle o di scleroterapia con MUS. Ci stiamo quindi adeguando a quelli che sono i standard internazionali garantendo ai pazienti trattamenti di questo tipo, quindi con l'utilizzo di colle. Questo tipo di trattamento è un trattamento non solo mini-invasivo ma che potrebbe essere effettuato in regime ambulatoriale in quanto non occorre realmente nemmeno una grossa quantità di anestetico. E quindi questo vuol dire anche un maggior recupero del paziente, noi abbiamo visto anche immagine del suo video, effettivamente il risultato è eccellente. Che cosa dicono i pazienti operati? Il paziente torna alla sua vita normale nell'arco di mezz'ora, quindi chiaramente non devo aggiungere altro. Senta, casualmente io mi sono ritrovata con il suo manuale di flebologia ambulatoriale tradotto in inglese perché noi l'avevamo preparato in italiano. Quando è successo? Questa è una grossa soddisfazione, effettivamente c'è una nuova tiratura in inglese perché la grossa richiesta è stata anche a livello internazionale e questo non solo fa piacere per un discorso di collaborazione nel redigere il testo ma perché vuol dire che c'è ancora interesse riguardo questo tipo di branca e a livello non solo italiano ma che c'è un interesse culturale a livello mondiale. Probabilmente anche perché il libro è veramente esaustivo, è un manuale fatto veramente bene come già ci eravamo detti nell'intervista di presentazione insieme a Frullini e il suo collega quando avevamo fatto la presentazione ufficiale dei libri in italiano. Dottor Frullini è l'autore principale, credo, non lo debbo dire io, credo che comunque sia completo come testo e sicuramente è un testo innovativo perché era da molto tempo che non venivano poi prodotti dei testi inerenti alla disciplina. Grazie a tutti. Grazie a tutti.